Una serata di sangue con rissa tra nordafricani, due fratelli accoltellati ritrovati in un lago di sangue in via delle Mimose nel cuore di Rozzano, uno ricoverato in fin di vita, l'altro ferito meno gravemente. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle polemiche sulla sicurezza in città da cui sono scaturiti i blitz della polizia locale nel quartiere. A poco però sono valsi questi interventi nei luoghi dello spaccio che in pochi giorni hanno portato all'arresto di due pusher, al sequestro di esercizi commerciali e a multe per irregolarità nella gestione di locali pubblici. Le polemiche, soprattutto politiche, non si sono placate e così il presidente della commissione antimafia del comune di Rozzano, Vincenzo Lepori, ha convocato l'assemblea con all'ordine del giorno l'emergenza, sicurezza nel territorio all'incontro. Hanno partecipato anche il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, il vice sindaco assessore alla sicurezza Cristina Perazzolo, l'assessore Ermanno Valli e il presidente della commissione antimafia di Regione Lombardia Monica Forte. L'amministrazione ha annunciato di aver investito risorse per l'attivazione di circa 150 telecamere. Per dare un segnale forte dopo gli ultimi episodi con il comando della polizia locale è stata anche decisa una più forte azione nel contrastare le situazioni più sospette a garanzia della sicurezza di tutti.